Cerchiamo di essere positivi, secondo me è un punto guadagnato perché comunque affrontavamo una squadra forte che è lo Spezia, anche se non sta vivendo la sua miglior stagione, anche per loro è stato un momento un po' complicato e difficile. Abbiamo dato tutto, secondo me, sotto tutti i punti di vista e stiamo cercando di crescere e anche cercando di seguire quello che ci chiede il mister. Ero molto emozionato, era la prima volta che affrontavo lo Spezia dal primo minuto, è stata una grande emozione, ma l'ho stato anche tornare a giocare qua a Bari, che era un po' che non mi succedeva, è stata una grande emozione per me, assolutamente. Quando attraversi periodi un po' complicati, è logico, secondo me, giocare con un pochino di paura, diciamo un po' di freno a mano tirato perché pensi sempre al peggio. Siamo stati comunque bravi a riadrizzarla perché siamo andati in svantaggio, ripeto, in un momento così complicato non era facile. Secondo me abbiamo provato a reagire da squadra e abbiamo avuto dei minuti in cui eravamo in grande crescita. Poi comunque ci siamo un pochino appiattiti, ma è normale, anche se c'è stato un grande dispendio di energie e adesso cercheremo di dare il massimo.